E salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video all'interno del mio canale e buona domenica a tutti ragazzuoli, come la va? Finalmente ha parlato Donnarumma, finalmente Donnarumma lo ha dichiarato pubblicamente ha detto che lui quest'anno a Paris Saint Germain sta soffrendo la panchina e soffre il dualismo con Navas e a noi tifosi rossoneri non fa altro che piacere sentirgli dire queste parole a questo piccolo uomo, a questo pagliaccio di merda Donnarumma, tu cacisticamente parlando, meriti tutte le disgrazie sportive, meriti di rovinarti la carriera perché alla fine la carriera finora te la stai rovinando con le tue stesse mani ti sei voluto affidare a Raiola? Dicevi quando eri a Milan, io faccio ciò che mi dice Raiola hai preso per il culo milioni e milioni di tifosi rossoneri soprattutto, primi su tutti hai preso per il culo la Curva Sud quando la Curva Sud venne a parlarti e tu con le tue lacrime di coccodrillo da infame, da piccolo uomo che non sei altro, dichiaravi di voler restare a Milan che avresti rinnovato con Milan e ora Donnarumma, prenditela nel culo, fatti la panchina soffri come un cane, così come hai fatto soffrire milioni e milioni di tifosi rossoneri e che dire ragazzi, godiamo, 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 godiamo a spruzzo impiancanto di bianco tutte le pareti di casa ma ovviamente non c'era bisogno che lo dicesse Donnarumma era una cosa che noi tifosi rossoneri già sapevamo già però sentirli dire queste parole ovviamente a noi tifosi milanisti non fa altro che, come dire io invece il petto d'orgoglio è camminare a testa alta perché noi tifosi rossoneri possiamo camminare tranquillamente col mento all'insù tu Donnarumma, piccolo uomo non puoi camminare nemmeno con la faccia a terra guardando verso i giù metteresti di strisciare tutto il giorno perché quello sei in grado di fare strisciare ed affidarti a uno come Raiola che ha pensato con le commissioni alle proprie tasche ma non ha pensato al tuo di bene calcisticamente parlato perché a Paris Saint-Germain era palese che Navas il posto da titolare non l'avrebbe mai perso era palese uno che ha vinto le Champions League i mondiali per club con Real Madrid uno che è uno dei senatori da anni del Paris Saint-Germain tu Donnarumma, piccolo uomo come facevi? come avevi la presunzione di andare lì e dire tu Navas ora le partite a cazzo giocoglio titolare? quindi ben di sta ti ci vuole noi tifosi camminiamo comunque a testata tu piccolo Vemme per quanto tu possa indascarti economicamente parlando anzi che poi a Paris Saint-Germain prendi addirittura meno degli 8 milioni che ti aveva offerto in Milan quindi sei un pagliaccio due volte primo perché te ne sei andato in quel modo vergognoso dopo che Milan ti ha cresciuto ti ha allevato meglio di un figlio e secondo comunque sei anche una testa di cazzo perché sei andato a guadagnare meno di quello che ti offriva in Milan hai pensato solamente a far ingrassare i panzone di Raiola ancora di più mentre le tue tasche comunque sia due milioni in meno tre milioni qualche sono poco ti cambiano però a livello calcistico per il momento ti fai la panchina soffri come un cane e quindi che dire ragazzi io aggiungo che Donnarumma sicuramente anche se non lo dirà mai si è pentito malamente di essersene andato via da Milan quindi detto ciò ragazzi voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di queste dichiarazioni del velme di Donnarumma iscrivetevi al mio canale YouTube lasciate un like e iscrivetevi anche sotto in descrizione vi lascio il link del mio canale Twitch dove vado in live costantemente almeno tre barra quattro volte a settimana detto questo ragazzi il video finisce qua bacione a tutti e sempre forza Milan ragazzuoli e Donnarumma per sempre resterai un infame un traditore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti